Nome? Michele Iannucci Annalisa Da quanti anni siete sposati? Dal 2007 Quindi 14 anni Ricordi la data del vostro anniversario? 24 giugno 24 giugno Chi ha fatto il primo passo? Io Ma tutti e due Il più socievole? Annalisa, mia moglie Tutti e due Il più disordinato? Lei dice io, io dico lei Quindi è una lunga diatriba Secondo me lui Il più bravo a cucinare? Lei Io Chi porta fuori la spazzatura? Lei Io Chi ha il monopolio del telecomando? Ma quello io, almeno una cosa a casa riesco a caparrarla Lui Un prezzo del tuo partner? Sa leggermi dentro Generoso Un difetto del tuo partner? A volte è molto arrogante Che sardo Un segreto che non gli hai mai confessato? Ma non ce ne sono Ma qualche spesa forse? Sei geloso? Ma prima lo ero di più, adesso no No Litiga te spesso? No, litighiamo no Discutiamo ma litigare raramente No Faresti mai del male al tuo partner? Assolutamente no No In Italia viene uccisa una donna ogni tre giorni? È qualcosa di preoccupante, purtroppo è un fenomeno in crescita È abberrante pensare che si possa fare del male a persone con cui condividi una vita intera Penso che, insomma, è un problema, è un grosso problema Secondo te è più importante proteggere le donne o educare gli uomini? Entrambe Educare gli uomini La violenza sulle donne non riguarda solo me La violenza sulle donne riguarda anche me Grazie a tutti